Sono rimaste solo due squadre, questa vale punteggio doppio. Qual è il nome del teletabbi viola? Tinky Winky! Risposta esatta! Aveva sempre una... Borsa rossa. Max è molto competitivo, come me. È uno dei motivi per cui lo amo. Ah, questo è facile. Era l'incredibile Hulk. Eric Benham. L'altro? Mark Raffalo. L'altro? Bluferrigno. Schegge di paura! Il Chargir non ha fatto l'incredibile Hulk. Tempo? Cristo santo! Ed Norton! Oh! Schegge di paura! Ragazzi, e se giocassimo a casa mia la settimana prossima? Sarà una di quelle serate da ricordare. Oh, cavolo. Questa sera faremo le cose in grande. I ante giochi da tavolo non serviranno pezzi. E non serviva neanche buttarli. Qualcuno dei presenti sarà arrabbito. Ah, è un invito a cena con delitto! Figo! Chi troverà la vittima vince. Il premio finale. Le chiavi della Stigre. Solo le chiavi? No, Ryan. L'auto è intera. Oh, sì! Volevo augurarvi buona fortuna per stasera. Ciao! Passami quei fiammiferi. Voglio dare fuoco alla porta. Vuoi accendere un fuoco nella stanza in cui siamo intrappolati? Le mie idee ti sembrano sempre stupide. Non capirete cosa è vero e cosa è finto. Ho quella pistola, è vero? Oh, no, Annie! Oh, no! Oh, no, no! Oh, no! Oddio, ti ho sparato! Oh, affondo! Mi è sempre piaciuto lo spirito di squadra tra amici. Spesso apprezziamo le cose solo dopo che le abbiamo perse. Oh, perché tua moglie ti ha lasciato. Aiuto. Oh, cazzo. Un bel bagno? Ho fatto un casino. Ok. Ho un'idea. È assurda, ma potrebbe funzionare. Vuoi schiantarti contro l'aereo come gli Amnison in Taken 3? L'ha fatto in Taken 3, eh? L'hai mancata? Grazie, tesoro. È un tutorial per rimuovere il proiettile. Non aveva un alcol disinfettante, così ho preso lo chardonnay. Buona idea, va bene, Wallace. Che cosa ci facciamo con questa rivista? Oh, è per dopo. C'è una buona ricetta per la zuppa di mais. Tu adori la zuppa di mais, no? Dolce, grazie. Ti tiderò su. Ti t'ai una buona ricetta per la zuppa di mais. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Grazie a tutti.